Siamo in diretta dal fantastico Tg Sardo in Canavese. Molte testate giornalistiche, molti giornali stanno appunto scrivendo su una notizia che nelle ultime ore sta facendo il giro di tutto il Canavese. E io appunto sono il Tg Sardo in Canavese, quindi non potevo appunto mancare all'appuntamento per dare una piccola informazione più su quello che sta capitando qua all'ospedale di Vrea. La mia fonte, un po' alla Spider-Man e Peter Parker, è una fonte accertata, che per rispetto non faccio nomi, è una fonte che mi ha dato delle notizie, notizie che voglio tranquillizzare tutti i miei telespettatori, notizie che voglio far stare tranquille le persone. Sono un po' emozionato perché un Tg Sardo vero e proprio sul coronavirus non avrei mai voluto farlo qua in Canavese, però purtroppo è arrivato anche qua perché con questi ultimi decenni la globalizzazione ha preso il sopravvento. Ma è giusto anche che sia così per far girare l'economia e far girare tutte le risorse. Signori e signori, vedo che siete molti in diretta, vedo che siete molte persone online, voglio che condividete poi questo Tg Sardo perché come appunto sono sul campo, sono all'ospedale di Vrea. Allora, partiamo dal presupposto che voglio far stare tranquilli, dovete stare sereni, dovete continuare a uscire, non in grandi masse, ma la vita deve andare avanti perché già solo psicologicamente non dobbiamo farci abbattere. La vita è una, signori e signori, bisogna andare avanti, bisogna affrontarlo il problema con le giuste precauzioni e tutto. Vi invito anche a consultare i vari bollettini, che ormai tutti abbiamo internet, i vari bollettini dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è tutto online, momento, minuto per minuto, secondo per secondo, andate appunto a vedere tutto lo svolgersi della faccenda. Io sono qua vicino alla tenda dell'ospedale di Vrea, che c'è una tenda dove ti controllano se vuoi la temperatura, hanno messo questa tenda come da norma vigente. Però parliamo del caso, del primo caso, momentaneamente accertato ce n'è solo uno, del coronavirus arrivato Ivrea. Dovrebbe essere una persona anziana, non so bene dire l'età e nient'altro, ma non voglio neanche dirlo questo perché sono appunto fatti su privacy. Voglio appunto dire che momentaneamente accertato è solo uno, solo un caso. ci sono altri due tamponi che stiamo, stiamo, l'ospedale appunto di Ivrea, il pronto soccorso sta aspettando il risponso da Torino, quindi ci sarebbero altri due casi ma non ancora confermati. Quindi ripeto, solo un caso accertato a Ivrea momentaneamente. Si tratta di una persona sopra i 60 anni, le mie piccole fonti. Poi, tutto il personale medico è stato messo sotto osservazione, sotto controllo, quindi state tranquilli. L'ospedale di Ivrea è un ospedale fantastico, c'è tanti giovani emergenti che vogliono mettersi in mostra, c'è tanti giovani che danno il cuore per noi, per il popolo, c'è tanti giovani che finalmente si stanno veramente impegnando in qualcosa che vogliono fare per il loro futuro, per noi e per loro. Quindi stiamo tranquilli, continuiamo ad andare avanti, continuiamo a vivere la vita con le giuste precauzioni. La cosa che io voglio, che ho fatto questo di Gisardo, che non volevo fare, sono sincero, sul coronavirus, l'ho fatto e non voglio essere ripetitivo perché non bisogna smettere di sorridere alla vita. La vita è una, bisogna andare avanti, non bisogna stare troppo in casa perché bisogna affrontare il problema. Lavatevi tanto le mani, una pulizia e un'igiene è importantissimo, personale e quant'altro. Se dovete tossire, ma poi è inutile che vi sto a dire, tutte le norme le sapete. L'unica cosa che io vi dico, che il caso momentaneamente è solo uno, Ivrea quindi state tranquilli, è tante volte la preoccupazione più mentale che altro. Quindi continuate a uscire, c'è tante attività che hanno chiuso perché questa psicosi ha danneggiato tante attività. C'è tante attività che rischiano di fallire, di chiudere o di perdere tanti soldi. Qua in Canavese come in Italia. Dobbiamo andare avanti ragazzi, dobbiamo andare avanti perché sennò tanti rischiano di stare a casa e tante famiglie rischiano di stare senza lavoro, senza mangiare per tanti mesi perché l'Italia, come ben sapete, non sono nel primo o nell'ultimo a dirlo, è già in deficit, molto in deficit. Quindi state attenti, dosate bene le vostre paure, che la vita è una e deve andare avanti. Ok? Sto leggendo adesso qualche commento. Purtroppo bisogna stare attenti con le persone che si hanno piccole e i nostri nonni, i nostri zii in casa che hanno un'età o comunque che sono con delle difese immunitarie bassissime. però uno non può rinchiudersi in casa. Che vita è? La vita è una. Tante volte, sono sincero, io l'ho provato in prima persona, si fa un passo fuori da una striscia o comunque si fa un passo fuori di casa e si muore comunque così. Quindi non facciamoci abbattere da un qualcosa che magari ci vive lontano. Continuate a sorridere alla vita e andare avanti con le giuste precauzioni. Capito? Brava. Ho letto che adesso una signora ha appena scritto che è senza lavoro. Questo è un grave problema. Perché uno magari ha dei sogni da realizzare, ha qualcosa da fare o ha da aiutare i propri figli. Il sogno di una vita, aiutare il figlio, che i figli realizzino i sogni. Queste sono le cose belle della vita. Andare avanti. Pensate se chi non aveva già lavoro prima, pensate adesso come sarà la situazione se tutto si ferma. Comunque vi terremo aggiornati, vi terrò aggiornati. Io sono qua con il mio piccolo, senza aggiungere né un se né un ma, per dare le piccole informazioni che io vengo sempre a sapere. Dal Tg Sardo in Canavese è tutto. Spero di essere stato una persona corretta. A me piace dire sempre la verità e spero di essere sempre utile con il mio piccolo Tg e di dire sempre cose consone, veritiere e che piacciono o che non piacciono è il mio piccolo pensiero, ecco. Con i miei valori. Dal Tg Sardo in Canavese è tutto. Siamo qua dalla tenda, dall'ospedale di Ivrea. Un bacio grande. Condividete. Grazie.